Novena di Natale, settimo giorno, 22 dicembre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. Gesù, sei la luce che orienta e illumina il cammino. Fa che le luci effimere che in questi giorni mi circondano non offuschino la luce vera che viene da te. Sostiamo, fratelli e sorelle, qualche istante nel silenzio. Pensiamo alla scena della natività. Con quanto amore Maria e Giuseppe adagiano questo bambino in una mangiatoia. Il posto più semplice che ci possa essere. E preghiamo per quella intenzione che ci ha spinto a pregare questa novena. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon cammino, buona preghiera, buona novena.